Per i residenti e i visitatori del centro storico da questa sera non sono più ammesse, diciamo così, distrazioni. Al via, a partire dalle 20, controlle a tappeto della Polizia Municipale in tutta la zona del centro storico scelta per questa prima prova di isola pedonale in vigore dal 1 agosto scorso. Isola destinata a diventare nei prossimi mesi definitiva. Che gli aquilani dopo il sisma siano restii ad abituarsi alle nuove regole, anzi diciamo pure alle regole della normale vita cittadina, dopo 10 anni di ricostruzione di deregulation generale, è sotto gli occhi di tutti ed è emerso chiaramente nei primi tre giorni di attivazione del nuovo provvedimento, auto parcheggiate in piena zona pedonale. E così la stretta dell'amministrazione comunale non si farà attendere. Da stasera ci saranno controlli serrati. Devo dire che però, avendo effettuato personalmente dei sopralluoghi, l'isola sta andando bene, ci sono problemi soltanto su Piazza Duomo, dove gli aquilani continuano a parcheggiare e quindi da stasera partiranno controlli e quindi di conseguenza le multe. Parte, diciamo, tardi dalle 20 perché, come sappiamo tutti, l'Aquila è una città in ricostruzione, quindi ci sono i cantieri attivi fino alle 5, alle 6 di pomeriggio e non è possibile in quelle ore fare l'isola pedonale perché ci sono in circolazione i mezzi pesanti, i mezzi degli addetti ai lavori. L'auspicio è anticipare l'ora di avvio dell'isola pedonale, non alle 20 ma alle 18. Su questo c'è un confronto con i commercianti che non sono ancora convinti. Intanto ringrazieranno i turisti che stanno letteralmente prendendo da salto la città, i suoi monumenti e che l'estera potranno godersi il centro storico senza l'assillo delle automobili.